Stiamo lavorando tanto e la preparazione è iniziata già da un bel po' di tempo, quindi stiamo continuando a portare avanti il lavoro anche in prospettiva del mondiale di fine anno. Sicuramente l'Europa è una tappa che bisogna fare per consolidare questo titolo e quindi alla fine ci proietteremo direttamente verso il mondiale di fine anno.